Salve amici e bentornati sul canale, facciamo un salto in libreria. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione grande grande. Oggi siamo qui per fare una chiacchierata sulla lettura condivisa che abbiamo fatto insieme, infatti l'abbiamo scelto insieme per il nostro gruppo di lettura, sulla sposa era vestita di bianco di Mary Higgins Clark e Alfer Burke. Ok, iniziamo subito parlando un po' della trama e poi vi dirò alla fine le mie impressioni personali. Allora, mi sono appuntata un po' di nomi perché tanti libri, tanti nomi, tanti personaggi, quindi qualcosina a livello proprio di nomi, mi li devo scrivere perché purtroppo la memoria è quella che è, nel senso che comunque poi alla fine faccio confusione. Allora, abbiamo la nostra protagonista che è Lori. Lori è una produttrice televisiva, ha un programma che si chiama Under Suspicion. Sì, è un programma particolare. Lei ricrea, diciamo, un po' le atmosfere dei casi di omicidio irrisolti, vecchi casi di omicidio irrisolti. Quindi torna nei luoghi dove sono avvenuti questi omicidi e cerca di contattare tutte le persone che erano, tra virgolette, un po' sospettate. E per cui ricostruisce un po' la storia. E spesso capita che ricostruendo quella storia di quell'omicidio, esca fuori proprio magari il colpevole, che magari anni prima non era stato individuato. Quindi è un qualcosa di bello che fa per la società. Lei è una donna, la nostra protagonista, Lori è una donna che ha sofferto molto perché anni prima lei ha un bambino di otto anni e circa 4-5 anni prima viene ucciso brutalmente suo marito davanti a suo figlio, mentre erano al parco, quindi ha avuto questo grande trauma. Quindi anche lei in un certo modo ha subito un qualcosa di tragico, di violento, comunque un omicidio. E poi è stato comunque arrestato dall'uomo che ha ucciso suo marito. Lei fa fatica ad andare avanti nella sua vita, soprattutto a livello sentimentale, anche se è legata a un collaboratore del suo programma televisivo di questo show, che si chiama Alex. Uomo bellissimo, avvocato di successo, che è bravissimo a fare domande ai vari partecipanti di volta in volta dello show. Lei è in un punto di disvolta, una mattina deve scegliere tra due o tre casi che le sono stati presentati, quale candidare di questi casi per il suo programma. Ma alla sua porta, diciamo così, busta la signora Sandra, che è la mamma di Amanda. La mamma di Amanda scomparsa tipo, sì, cinque anni prima, cinque anni prima e mai ritrovata. Quindi questa donna disperata chiede aiuto proprio a Lori, che è appunto, come dicevo, questa donna che fa questo programma TV. E chiede proprio che venga fatto un programma TV, richiamati tutti quanti, quelli che avevano partecipato al matrimonio, che poi non è avvenuto, di sua figlia Amanda. Parlando con questa donna, Lori ricorda quel caso, perché proprio cinque anni prima era il periodo all'incirca di quando era venuto a mancare suo marito. Questa donna, l'altra protagonista, diciamo, del libro, Amanda, è una ragazza meravigliosa, bellissima, ricca. La famiglia di questa Amanda, quindi sua madre e suo padre, hanno una ditta grandissima che fa intimo, mi sembra se non ricordo male, per signore. E da lì poi si sviluppa e farà altri capi d'abbigliamento per donne e per signore, quindi sono ricchissimi. E loro, nulla, una famiglia unita, madre e padre, figlio maschio, figlia femmina e Amanda, un'altra figlia femmina. Quindi abbiamo una famiglia che sembra felice, ma all'improvviso questa ragazza scompare proprio il giorno prima del suo matrimonio. Hanno organizzato questo grande matrimonio, se non ricordo male, in Florida, non ricordo di preciso il luogo, diciamo la Florida. Loro da New York, quindi partono, New York spero, vabbè prendete per buono perché alcune cose non, i luoghi specialmente a volte. Quindi loro da New York partono e vogliono fare questo magnifico matrimonio dentro un albergo stupendo, meraviglioso. e tantissimi invitati, quindi una cosa molto, diciamo, scenica, spettacolare. Il futuro sposo, Jeff, se non ricordo male, sì, Jeff, anche lui è sconvolto. È sconvolto perché, appunto, scompare questa Amanda e dopo cinque anni, quindi, ancora non si sa che fine abbia fatto Amanda. Lory, in sintesi, rimane colpita da questo racconto e prende il caso in mano e quindi dice, ok, portiamo avanti il programma con questa storia, quindi raccontiamo questa storia. E per cui si trasferisce tutto il cast, tutta la troupe televisiva, diciamo così, vanno tutti in Florida, eh, facciamo che è la Florida perché non mi ricordo, e vanno in questo albergo stupendo, sfarzoso. Lory ha un padre che l'aiuta molto con questo bambino ex poliziotto, lei porta anche suo padre e suo figlio, quindi per loro è una sorta di vacanza. Per cui il libro è intervallato anche dai racconti dell'intimità della protagonista di Lory e della sua storia d'amore con Alex, che è questo avvocato che è bravissimo ad intuire sempre più o meno l'assassino, diciamo. E nulla, poi durante il libro si vede che piano piano cercano di contattare tutte le persone più strette che erano presenti al matrimonio, quindi i possibili sospettati. Tra questi possibili sospettati ci sono la sorella di Amanda, quindi la ragazza scomparsa, sorella anche lei bella, arrivata lavorativamente, che lavora per l'impresa della famiglia, però magari leggermente in sovrappeso, non ha una storia d'amore, un po' più la sfigatina della famiglia, diciamo. Il fratello di Lory, che da solo ha aperto un'altra impresa e sta staccato dall'impresa familiare. Poi abbiamo Jeff, che è il sospettato numero uno, perché prima di sposarsi Amanda, ricchissima, aveva lasciato tipo un fondo, tantissimi soldi, aveva lasciato a questo marito. Quindi si pensava che fosse stato lui l'assassino, poi alla fine del libro capiremo chi è in realtà o meno. Io non vi voglio fare spoiler, l'abbiamo letto insieme, però magari tante altre persone ascolteranno, vedranno il video, quindi mi dispiace fare poi spoiler. E cosa accadrà? Che saranno tutti insieme dentro questo garandalbergo, comprese le damigelle, quindi dicevo fratello e sorella di Amanda, la ragazza scomparsa. Poi abbiamo due damigelle, migliori amiche tutte e due, sempre di Amanda, e poi abbiamo Jeff e due amici del futuro sposo di Jeff, che erano anche amici del college, diciamo così, di Amanda. Quindi tutto ruota intorno a questi personaggi. Alla fine si capirà chi è stato l'assassino di Amanda, perché Amanda verrà ritrovato praticamente, ecco questo ve lo posso dire. Se volete leggere il libro, adesso allora non saltate questo pezzo, Amanda poi verranno ritrovati i resti proprio nei giorni in cui la truppa era lì a girare questo programma, per cui sospenderanno tutto, perché dai ritrovamenti fatti si viene proprio a scoprire che era Amanda. Quindi diciamo che la sua famiglia, sua madre, un po' si mettono l'anima in pace perché scoprono il corpo, per cui capiscono che realmente è stata uccisa e morta. E poi nulla, se l'avete letto sapete come va a finire, diciamo che la storia è abbastanza incalzante. Non ti aspetti bene o male chi è l'assassino, anche se io a me dal libro qualcosa avevo intuito. E questa è la trama di La sposa era vestita di bianco. Allora, sono sempre felice di leggere i libri insieme a voi, però mi dispiace dire che questa volta ho faticato a portare il libro a termine. Per essere due autrici, ora, non è che abbiano partorito una storia particolarmente entusiasmante, scorrevole, curiosa, appassionante. Io ho trovato banale sicuramente la costruzione dei personaggi, l'ho trovato noioso, forse giusto un po' alla fine qualche colpo di scena ma neanche troppo. A me questo libro purtroppo mi dispiace ma non è piaciuto. Io purtroppo in libreria ho altri due libri del Burk che non so a questo punto se leggerò. Voi sapete che amo i gialli, amo i thriller, amo i misteri, però veramente questo fatica a finirlo. Cioè, vi prego, lasciatemi sotto nei commenti se a voi è piaciuto, perché vi è piaciuto. Io ho trovato veramente tutto, l'unica cosa che mi è piaciuta è stata proprio il fatto che non avevo mai letto un thriller dove ci fosse come ambientazione questa produzione televisiva Under Suspicion, dove appunto ricostruiscono i casi di omicidi irrisolti. Questa cosa un po' all'inizio mi aveva gasata, ma poi proprio di una banalità, di un piattume, di un... Nessun personaggio mi è rimasto nel cuore, ma anche la stessa Amanda, non è stata proprio definita, delineata questo personaggio, ma anche le motivazioni, le motivazioni... cioè la motivazione del perché è stata uccisa lei e poi tra virgolette, voi che l'avete letto sapete che l'assassino non ha ucciso solamente lei, ma anche altre donne. Io per me ho perso tempo prezioso a leggere questo libro, quindi non ve lo consiglio. Poi sono gusti, se volete una lettura un po' così leggera, sì ci sta anche, che vuoi sapere chi è stato alla fine, però che devo perdere 5-6 ore a leggere questo libro, che alla fine non mi ha lasciato un granché, preferisco leggere altro, però anche queste sono esperienze di lettura, è importante farle. Sarà che sono cambiata come lettrice, sarà che adesso non leggo solo Gialli, Thriller, ma spazio di più, leggo anche molte più cose, sinceramente bocciato. Per me non è... se devo mettere qualche stellina, due stelline su cinque proprio, nel senso proprio il minimo sindacale. Nulla, questa è stata la nostra chiacchierata, non ho spoilerato troppo, però un po' ci stava a fare un po' di spoiler, è normale, è il gruppo di lettura, quindi se l'avete letto è chiaro che qualcosina l'ho dovuto dire. Io vi mando un bacione grandissimo, come sempre, lasciatemi sotto nei commenti se vi è piaciuto o meno questo libro, e presto arriverà anche il video per candidare, ovviamente, i prossimi libri per il nostro gruppo di lettura. Quindi a breve ci sarà anche il video per il gruppo di lettura. Ora non so se metterò prima questo di video o prima l'altro, ma comunque a breve saprete i prossimi titoli per il nostro futuro gruppo di lettura. Io vi mando un bacione grandissimo e aspetto con molta curiosità i vostri commenti su la sposa era vestita di bianco. Un bacione, ci vediamo al più presto per un nuovo video.